Si barricò in casa, impugnò il suo fucile ed iniziò a sparare contro due amici, poi li fece entrare nella sua abitazione e li minacciò sempre con la stessa arma. Un pomeriggio di follia in Val Tiberina e una tragedia sfiorata che adesso però potrebbe costar cara ad Enrico Guidi, il 44enne di Sansepolcro, che lo scorso 29 maggio, ubriaco, sparò contro i due amici convinto che fossero carabinieri in borghese. Il PM Marco Dioni, che ha chiuso le indagini, infatti adesso gli contesta non solo il tentato omicidio, ma anche il sequestro di persona. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, quel pomeriggio l'uomo che accusava gli amici di aver scattato delle foto con il cellulare, avrebbe minacciato prima di uccidere tutti, poi di suicidarsi. Enrico Guidi costrinse i due a salire in casa, poi con ancora l'arma in mano li trattenne per più di un'ora. Uno dei due addirittura si vide puntare il fucile allo stomaco. I due riuscirono a liberarsi solamente nel momento in cui il 44enne si allontanò per andare in bagno. Insomma, un dramma sfiorato anche grazie al pronto intervento del maresciallo dei carabinieri di Montevarchi, che si occupò di trattare con l'uomo letteralmente fuori di sé perché i militari gli avevano ritirato la patente. Il PM Marco Dioni aveva anche chiesto al GIP Pier Giorgio Ponticelli una perizia psichiatrica che si era conclusa dichiarando il 44enne sano di mente. L'avviso di chiusura indagini è già stato notificato all'uomo che si trova in carcere da quella 29 maggio. A breve potrebbe essere richiesto il rinvio a giudizio.